Gesù è arrivato su quella benedetta collina è pronto per essere crocifisso e allora lo spogliono dei suoi vestiti anche di quel mantello che gli avevano messo addosso sono i soldati a farlo addirittura si divideranno i suoi vestiti come se avessero conquistato una preda è una scena triste ma Gesù tace e non si tira indietro ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo per tutto questo perché il Signore dona tutto se stesso fino in fondo diciamo gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei stato spogliato di tutto ti è stata tolta ogni dignità tu lo hai accettato per amore così ci hai donato tutto e non hai tenuto nulla per te. Grazie. Grazie.